Buonasera, il Bagnoli Calcio e l'amministrazione comunale di Bagnoli saluta tutti i tifosi delle due squadre, questa sera assisteremo alla finale valevole per la Lago, Caldi Noale si schiera con il numero 1 Valdan, numero 2 Grigio, numero 3 Pensa, numero 4 Piluti, numero 5 Zugno, numero 6 Tom, numero 7 D'Apost, numero 8 Toresin, numero 9 Guerra, numero 10 Lerme, numero 11 Lopez. A disposizione con il numero 12 Bettin, con il numero 13 Giovano, con il numero 14 Pistole, con il numero 15 Pasinato, con il numero 16 Mason, con il numero 17 Supergrosso, con il numero 18 Schiavone, allenatore Susic Massimo, Union Chiavo Arzignano, numero 1 Vicentini, numero 2 Faccin, numero 3 Vanzo, numero 4 Festival, numero 5 Procanoro, numero 6 Randonne, numero 7 Baggio, numero 8 Tecchio, numero 9 Galgaro, numero 10 Raniero, numero 11 Benetti, a disposizione con il numero 12 Dallagastra, con il numero 13 Dallano, con il numero 14 Nicoletti, con il numero 15 Scandola, con il numero 16 Sazzi, con il numero 17 Tresso, con il numero 18 Benvenuto, allenatore Beggio Paolo, un in bocca al lupo a tutte le ore quale. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti